Era il mese di giugno del 2016 quando a Marotta iniziò la conta dei danni provocati dalla bomba d'acqua. Il comune di Mondolfo fu il più colpito dal maltempo che si era battuto sulla provincia di Pesero Urbino, provocando allagamenti in diverse zone della città. Oggi il sindaco Nicola Barbieri ha annunciato l'arrivo di importanti contributi dal Ministero dell'Interno per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Un problema annuso ereditato nel 2014 dopo l'annessione della porzione di Marotta che faceva parte del comune di Fano. Una bella notizia perché abbiamo ottenuto dal Ministro dell'Interno 1.375.000 euro per la sistemazione idraulica a protezione dell'abitato di Marotta Nord. Quindi un intervento molto importante richiesto da tanti anni dai cittadini della zona che servirà per risolvere il problema allagamenti. Esattamente dove andrete a intervenire? Andremo ad intervenire con un nuovo scarico a mare su via Corfu, quindi una nuova condotta. e gli interventi riguarderanno anche le vie perpendicolari a via Corfu, quindi via Martini, via Ferrari, via Rovani. Quindi nel progetto verrà realizzata una nuova linea bianca che avrà una portata molto maggiore rispetto a quella attuale che è sottodimensionata. L'intervento è molto importante perché ci permetterà anche di migliorare la qualità delle acque con la separazione delle acque nere dalle acque bianche. Inoltre l'amministrazione ha intensificato i contatti con RFI per compartecipare a un ulteriore intervento che si renderà necessario l'attraversamento della ferrovia. Sulle tempistiche si prevede l'inizio dei lavori a fine 2021 e poi il cantiere essendo un'opera molto importante perché riguarderà anche interventi sulla zona mare e su via Chienti richiederà almeno 12 mesi di lavori.